abbiamo lasciato da poco il passo della guardia stiamo andando al ciotto dei giai oggi è l'otto di l'8 gennaio 2017 una giornata stupenda siamo abbastanza vicini alla galleria del garezzo che vedete la in quella piccola sella sopra al centro delle immagini sulla destra vedete il passo della mezzaluna i prati di corte il carmo dei brocchi il monte faudo su cui eravamo ieri la di fronte e in basso tutte le nuvole questa è tutta la valle argentina in direzione di arma di taggia in questa direzione c'è 20 miglia e il mare verso 20 miglia coperto dalle nuvole sulla destra vediamo il monte grai cima marta e monte ceriane perché altro monte ceriane e monte grai sul a fianco leggermente a sinistra al monte grai vediamo il il monte toraggio in basso vediamo goina immagini stupende offerte dall'albergo luccio di santo stefano al mare a circa di un'ora di automobile dal passo della guardia dove abbiamo lasciato l'automobile oggi quindi siamo in alta montagna e siamo nella riviera dei fiori per informazioni telefono www mariemontiliguri.eu oppure www albergoluciola.com oppure telefonare allo 0184 48 42 36